Intervenire in tempi brevi sulla carenza di personale che interessa l'ospedale di Eboli è quanto richiesto dalla Will in una lettera inviata fra gli altri al Ministro della Salute e dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca. Una situazione che interessa più reparti e che rischia di compromettere l'assistenza ai malati sulla quale il Sindacato ha voluto accendere un faro chiedendo l'immediata assegnazione di personale, medico e di comparto anche in considerazione delle procedure di reclutamento avviate ormai da molti mesi e non ancora concluse. In difetto di tutto quanto richiesto, si legge nel documento, saranno attivate tutte le azioni a tutela e a garanzia dei malati e degli operatori.